Poteva trasformarsi in una tragedia l'ultima tappa del quarto campionato regionale Slalom 2016 organizzato dall'Acio a Catanzaro. Una tranquilla domenica di dicembre in cui si sono vissuti attimi di vero terrore quando uno dei commissari di gara, un 51enne originario di Tiriolo, è stato letteralmente travolto da un'auto in corsa, una Peugeot 106 nera, impegnata a risalire il percorso a quanto pare a velocità sostenuta. Una carambola spaventosa e che ha visto coinvolte in totale quattro persone. Ad avere la peggio è stato proprio il 51enne che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ricoverato in prognosi riservata. Ora la vicenda passa agli investigatori che si stanno già occupando del caso. L'auto incriminata infatti non risulterebbe registrata e dunque priva di qualunque autorizzazione per partecipare alla manifestazione. I militari hanno subito fermato e identificato il conducente mentre l'auto è stata posta sotto sequestro. L'intenzione è chiara, capire come e perché l'auto si trovasse lì.